questo rosso sembra tipo quello del film horror in realtà è ragione però vabbè allora sono però tornato a casa io adesso vado a letto a scuola all'ultima ora mi sentivo veramente malissimo e metto in carica tutta la mia attrezzatura e niente domani si parte alla volta a Titorino se andate sul mio profilo Instagram si arriviamo a 900 follower perchè sto raggiungendo veramente una cifra esorbitante di follower in questo ultimo periodo così da andare poi a Milano infatti se volete seguitemi se mi seguite già a pazienza ho 15 euro per il treno e 15 euro per mangiare perfetto quindi si va a Torino con 30 euro niente io ragazzi veramente vi saluto e ci vediamo domani mattina pronti per la partenza ma che l'ho appena svegliato così ma non vi faccio vedere la mia faccia a domani voi che dite c'è abbastanza luce? nooo per niente mi sto letteralmente accecando fa tanto freddo poi anche se mi sono munito di qualsiasi protezione dal freddo c'è un buonissimo c'è eccolo nooo per l'ho appena 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 che ripresa che è venuta mi verrebbe da fare una sfida nooo c'è una carta cosa è una carta? Grazie Ragazzi io sono aspettato mio padre adesso andrò a scuola sono abbastanza distrutto abbastanza E niente come sempre se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su commentate in condividete Iscrivetevi io vi saluto e sono sullo spondolero con lui non è al cielo uno spondolero No sto scherzando e niente vi saluto e c'è ragazzi